Buongiorno a tutti, ben ritrovati cari telespettatori di Faro TV sul canale 17 del digitale terrestre come sempre tutte le mattine alle 7 e mezzo ci rivediamo per leggere i giornali insieme lo faremo tra un istante prima però guardiamo il tempo, il santo del giorno oggi è Sant'Innocenzo di Tortona il sole è sorto alle 6 e 21, tramonterà le 19 e 54 minuti il tempo non è un granché, guardate come si è svegliata la città di Faro questa mattina lo scatto della nostra webcam dell'osservatorio meteorologico di Faro TV accessibile dal nostro sito internet ci sono le nuvole ma fa caldo, 17 gradi alle 7 e 30 dunque ancora una giornata piuttosto calda anche se le temperature scenderanno anche per effetto della pioggia che arriverà nel corso della mattinata, tarda mattinata dove ci sarà la possibilità di rovesci o temporali sparsi localmente di moderata intensità da prima sui settori appenninici in estensione la fascia collinare costiera dal pomeriggio fenomeni in progressivo esaurimento dal tardo pomeriggio i venti sono di brezza tesa per domani la giornata di sabato 18 aprile ancora tempo perturbato molto perturbato con temporali anche nell'entroterra vedete tutta la fascia appenninica schiarite invece alternate a nuvole con nella parte diciamo della costa quindi avremo dal pomeriggio rovescio temporale diffusi nei settori interni e sparsi altrove con esaurimento dei fenomeni dalla serata le temperature ancora in diminuzione nei valori minimi per quanto riguarda i venti saranno di brezza tesa per la giornata di domenica 19 di aprile avremo cielo parzialmente nuvoloso nella mattinata con addensamenti interni sereno poco nuvoloso invece diciamo da mezzogiorno in poi temperature in diminuzione nei valori massimi poi il tempo sarà variabile nella prima parte della prossima settimana con probabile miglioramento per la parte finale allora cominciamo a leggere i giornali il corriere adriatico da Pesaro trovato senza vita l'architetto Frenco Ellucci era sul divano con un libro in mano rinvenuto dalla compagna lascia un figlio di 17 anni ed una sorella centropagina la frode del tartufo da Colagna in quattro finiscono nei guai sono imprenditori che gonfiavano i costi per evadere il fisco sequestrati dalla guardia di finanza beni per 800 mila euro sempre la cronaca da Piobbico ruba il cogliere di una donna e si prende un pugno in faccia si è conclusa così la carriera di due abilissimi ladri che ora sono stati arrestati l'altra pagina del corriere di Pesaro spiaggia per i cani sì ma nel 2016 De Regis concessione a Baia Flaminia entro l'anno il bando di gara Ceriscioli la politica prima convention casalinga da Urbino sarà domani nella città ducale con lui anche la candidata Raffaella la pagina di Fano invece niente via valutazione di impatto ambientale per la profil glass perplessità del comitato di Bellocchi i cui residenti acquisiranno gli atti per discuterne il 22 aprile con i candidati governatori Capodagli non sarà confermata presidente noi città e noi giovani vogliono un nome nuovo per l'ASET unita unificata il Partito Democratico Unito regge l'attacco di Severi le due liste civiche chiedono di accelerare il processo di fusione nel merito in maggioranza le idee sono diverse ritardato lo spostamento delle vele ma alla darsena occorre un restauro cartelli pubblicitari destinati a Gimarra manca soltanto un'autorizzazione così come aveva detto nel corso di Primo Cittadino qualche giorno fa il sindaco qui sui nostri studi Buche e Cunette creano gravi problemi al 118 minacciata anche la sicurezza dei pazienti centro di aggregazione all'ex teatro la parrocchia di Sant'Orso lavora a un luogo di incontro per tutte le età da sempre da Fano 60 studenti andranno in Bosnia in gita a Srebrenica hanno scelto di celebrare i 20 anni dalla strage con loro ci sarà anche il sindaco di Fano Seri e l'assessore Mascarin con le auto proprie sono i ragazzi del liceo Nolfi e della Polloni con i loro insegnanti che visiteranno anche le città di Mostar e Sarajevo la pagina di Pesaro invece del messaggero rifiuti via i sacchi dal centro sempre dalla pagina di Pesaro il sindaco Ricci vuole rivoluzionare la raccolta porta a porta già durante la stagione estiva entro due settimane il piano di Marche Multiservizi martedì mozione in consiglio comunale perde il lavoro e spaccia droga arrestata e subito condannata una quarantenne sorpresa in casa dalla polizia con due etti di Ascish a centro pagina la foto gigante per la maxifrode al tartufo con le quattro persone denunciate dalla finanza che ha scoperto una maxifrode nella commercializzazione dei tartufi si tratta in particolare di fatture false per milioni di euro bloccati in otto nell'ascensore del tribunale paura e disagio ne funziona solo uno in tutto il palazzo e quando anche quello è andato in tilt sono cominciati i problemi seri più in alto sempre dalla pagina principale del messaggero la protesta e la mobilitazione per salvare l'ultimo cinema nel cuore della città di Pesaro ovvero il cinema astra mentre nelle pagine degli spettacoli del messaggero oggi potrete leggere anche la storia della piccola vittoria di Fermignano che entra nella cucina di Junior Masterchef che è un reality concorso che va in onda su Sky Forza Italia Marche 2020 slitta la firma Celani vice di Spacca ma sarò in lista l'ex sindaco di Ascoli grande connubio Ceroni pranza con Berlusconi Ceriscioli incassa anche l'appoggio delle liste civiche voi con noi ancora dal messaggero rifiuti si cambia niente più sacchetti lasciati per strada l'annuncio del sindaco di Pesaro presto sperimenteremo un nuovo sistema ma dall'estate addio alle buste nel cuore della città il processo sul delitto ferri la difesa di Beri ladro si assassino no l'italo marocchino interrogato in corte d'assise mi prendo la responsabilità del furto ma non del delitto di Andrea Ferri il PM lo incalza quelle foto su Facebook così soddisfatte mal si conciliano con la presa di distanza di Sabanov l'altro imputato ricorderete che subito dopo l'omicidio pubblicarono su Facebook alcune fotografie a Pasqua sempre per quanto riguarda il delitto ferri il Papa Papa Francesco ha telefonato di nuovo alla famiglia Ferri tartufi in nero scoperta una maxifroda anche qui tutti i particolari di questa inchiesta di questi arresti della Guardia di Finanza di queste denunce della Guardia di Finanza poi furti di collane come giochi di prestigio i carabinieri denunciano una romena e il suo fidanzato dalla pagina di Fano nella maggioranza c'è pace armata e aria di rimpasto di giunta il vertice pare avere sedato le frizioni almeno fino alle regionali però ci sono queste due liste civiche noi città e noi giovani che vanno all'attacco e dicono si faccia subito la società unica dei servizi per poi rinnovare la rappresentanza Dragaggio la Regione Marche ha stanziato i fondi ripartiti 2 milioni di euro tra i porti marchigiani bisognosi di dragaggio sono 5 in realtà quelli che hanno bisogno di interventi apriamo adesso invece il resto del Carlino anche qui in apertura il delitto Ferri vero dice ho sbagliato e voglio pagare ma con il delitto io non c'entro tre ore di interrogatorio per Carimberi il complice di Sabanov e poi c'è la notizia che si riprende la prossima udienza è stata fissata per il prossimo 27 maggio andiamo avanti sempre dal messaggero amputata una mano ad una giovane operaia lavorava alla cucitura di Materassi corsa all'ospedale di Ancona per riattaccargliela un urlo la mano sinistra amputata di netto che cade a terra il terrore negli occhi di una donna di 35 anni di nazionalità croata ma residente a Fano che non riusciva a rendersi conto di quanto le stava accadendo terrore ieri pomeriggio all'interno dello stabilimento l'Anaflex in via Carrara a Pantano a Pesaro dove si producono i materassi dalla pagina di Fano del resto del Carlino dopo le origini celtiche Zaffini rivendica anche quelle romagnole l'ex leghista e la secessione se a Pesaro il 55 vuole lasciare le marche a Fano sono almeno il 60% poi a centropagina Aset futuri scenari politici il PD riesce sempre a farsi male scintille nella riunione di maggioranza c'è tregua armata lezione di San Patrignano protagonisti ragazzi del Battisti incontro con i ragazzi della comunità e visita al carcere ancora i lavori in corso Matteotti a Fano cantieri aperti attività commerciali chiuse a Singhiozzo in azione gli uomini dell'Aset per la sistemazione della rete idrica nelle vie del centro istanza per quanto riguarda l'inchiesta della King SRL istanza respinta Rosichini resta in carcere infine salvò un ragazzo dal suicidio è stato premiato con una onorificenza al valore civile il maresciallo Domenico Pellegrino che è il comandante della stazione dei carabinieri di Mondolfo e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa grazie per averci seguito buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.